Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Allora, questo è un video tag E sono i 25 fatti random su di me Allora, inizio subito perché Più di una volta ho cito questo video E più di una volta l'ho dovuto cancellare Perché praticamente o era troppo lungo O si vedeva male O non c'era la luce giusta Un po' di tutto, o diceva po' l'alte pure Questa volta me li sono stritta Un pochettino Comunque, andiamo al sodo Primo fatto Non adoro andare in discoteca Posso essere una ragazza strana Io non sono ormai andata in discoteca E neanche ho l'idea Di andarci Non ci voglio andare Almeno, una volta ci sono andata Che era in un villaggio Ci sono passata, ero lì E ci sono entrata Ma niente di che Però non mi piace proprio l'ambiente Perché tutta la confusione Il fumo che è Per essere persone appiccicate Non mi piace Due Ho una paura matta degli insetti Io quando vedo un insetto Inizio a scappare Inizio a urlare come una matta Infatti ci sono momenti In cui vedo un insetto E sono con il mio ragazzo Il mio ragazzo fa il c'è O sei scema O sei una matta Sì, sono pazza Ci sono niente Nel frattempo voglio far vedere Le mie belle unghiette Sono un viola Piene di brillantini Per cambiare e Per levare il rosso Giustamente Il mio trucco è molto Molto leggero Comunque 3 Amo i cagnolini Allora A me piace tipo Una razza grande Però ancora piccola C'è cagnolini Non mi piacciono i cagnolini C'è Quelli che sono Nella statua piccola Potrebbero anche piacere Però Non lo so Ci sono alcuni cagnolini Che mi sono simpatici E altri no Quindi Infatti Quando Un esempio Quando vedo Tipo Un bambino neonato Tipo Metto davanti Metto a fare la creatina Tipo Sì Ok 4 Faccio sempre Le liste E scrivo sempre Anche cose senza senso Sì A me piace scrivere Infatti Se voi vedete Tipo C'è Scarabocchio di tutto Cioè Faccio Tipo Stivo una frase lunga E poi la fine la taglio Cioè Mi piace così Scarabocchiare un po' Il tutto Tipo questo Ho fatto tipo Così Perché mi piace Questo tipo di Infatti Io quando ero piccola Mi ricordo Che giocava A fare tipo La maestra E invece di scrivere Tipo una frase Sensata Io scrivo tipo Come cretini Tipo così Tanto per far capire Che stavo scrivendo Ma non stavo scrivendo Ok Non stavo scrivere Io Ma perché tutte queste maniche Spuntano Comunque 5 Alle medie Detestavo fare fisica Io odio Lo sport Proprio Non è una cosa Adatta a me Cioè Cioè Una volta Sono andata io in palestra Ma io ci andavo Solo per Tipo Per fare qualcosa Sì In effetti Mi è arrivato un messaggio Che l'ho levato Tipo per fare qualcosa O per uscire O per svagarmi Così Ma non è Una cosa Che a me Piace 6 Amo stare sola Nella mia stanza Io sono una persona Tipo Che mi isolo Che mi piace Stare chiusa Tipo Sì Io avrei una casa Che in futuro La dovrei avere Io starei tutto il giorno A casa Beh Come faccio adesso Perché mica Cioè Faccio a casa Suo sera Chianzato in giro Cioè Vado in giro Con mia chianzata Niente di chiaro Deve essere una cosa strana Che Vado la mia amica Forse la mia amica Fa prima A venire da me Ma Per farvi capire Aspettate Che Prendo Ok Allora Dove ero arrivata 7 Il mio colore Preferito È Il Rosso Eh già Cioè Per una persona Che non mi conosce Penso che Più di una volta Ho detto Che io amo Il rosso Allora Se io Devo comprarmi Un esempio Una magliettina O qualcosa Ci deve essere Il rosso Infatti Mi sono comprato Un borsellino Che è stato Questo Mi ricordo Sì Quest'estate Sì Che c'era Da Carpisa Forse Il 50% Mi sono comprato Un borsellino Con la borsa Weekend E l'ho comprata Rossa Con i frillini Ce l'ho anche qua Perché è carino Guardate Ops Non mi volare Telefono Stai qui Come Questa qui È molto carina Poi tipo La mia agenda È rossa Naturalmente Poteva mancare Cioè Io sono in fissa Con il rosso Io devo avere Sempre qualcosa Di rosso Perché sta luce è così? Ora sì Che ci siamo Io devo avere Sempre qualcosa Di rosso Nella mia Borsa O Sopra Da Di me Infatti Adesso Tengo questo qui Perché Io tenevo La cavigliera rossa Tenevo il piercing Nel rosso Ma l'ho perso Mi fecca comprarlo Perché ogni volta Lo perdo sempre Mi è seccato Niente Comunque Io Amo il rosso C'è poco da fare Infatti Io quando Dico il sabato sera Metto il rossetto rosso Stranamente Perché il mio ragazzo Mi odia Non per il fatto Il rossetto rosso Ma ogni volta Che si avvicina Si stampa Il rossetto Le sue labbra Comunque 8 Da piccola Non parlavo mai Ero molto timida Ed ero Io Nelle Nelle elementari Era una persona Che io Mi mettevo All'ultimo banco E mi isolavo E scrivo Wash a mezzo Come sempre Che novità Ero Tra le nuvole Andiamo Facciamo così Andiamo 9 Non ho mai Preso un aereo E non l'ho mai Visto da vicino Tipo Io Ho una macchina Posseggiata Non l'ho mai vista Così vicino E praticamente Mia madre Quest'anno È partita E io sono rimasta Qua naturalmente A casa E mentre il mio ragazzo Era qua Io mica me ne potevo andare Non poteva venire Il mio ragazzo Quindi Ho evitato di andare Praticamente Io pensavo Che accompagnando A mia madre Io vedevo Mia madre Io vedevo I miei familiari Salire nell'aereo Invece no Io pensavo Tipo che era Una macchina Come un autobus Che ne so Cioè una cosa Che ti mette La fermata E la prendi Invece no Tipo come il treno No Allora check in Lo lasci là Te ne vai C'è di andare Per forza Quindi niente Non l'ho mai visto Questo telefono Mi balla Forse sono io Magari Mi devo questo video 10 Quando voglio Una pizza Mi prendo Sempre la pizza Margherita Tipo sono in pizzeria Mi prendo La margherita Non perché Non mi piace La melanzana I Viustel O i funghi Queste cose Così Ma perché Secondo me La margherita La digerisco Meglio Uno Questo Ovvia Cioè Voglio dire La mozzarella Con il Il favore Che non la digerisce Però Secondo me A prescindere Quando Prendo io Una pizza Quando sono fuori Con il mio ragazzo Con gli amici Così Mi prendo una pizza Me la mangio Sempre la metà La metà O la lascio O me la porto Perché tutto Non ci riesco Mai Perché mi fregano Ogni volta L'antipasto Mi portano le patatine Io che mica Le posso guardare Ma le mangio Poi la lignetta Buona Ecco Andiamo avanti Undici A diciassetti anni Per la prima volta Io ragazzina Mi sono festeggiato Il compleanno Con i miei amici L'ho festeggiato In una casetta Il giorno prima Sono andata A pulire la casa E E ho portato Alpune cose Che mi servivano Per la festa Il giorno dopo Quando ho fatto Il mio compleanno Io sono dovuta Andare a casa Per dormire Per riposare Perché poi Il giorno dopo Dovevo andare al lavoro Quindi dovevo riposare bene Quindi a mezzanotte Mio padre Mi è venuto a prendere Con anche A mie cugine Perché stiamo In un palazzo insieme Mica ognuno Si può andare a prendere Capito Comunque E a mezzanotte 5-10 Così Ho avuto un incidente Solo che Eravamo in 4 Si eravamo in 4 4 In macchina Io Oltre i miei cugini Siamo andati in ospedale Invece mio padre Non ha avuto Nessuna contusione Niente di grave Però la macchina Ahimè Si poteva buttare Ma mio padre Ci teneva troppo Questa macchina Quindi l'ha fatta giustare Comunque Sono scoppiati anche L'airbag E tutto questo Quindi io Non volevo mai Cioè non volevo più Festeggiare un compleanno Perché dico io Dopo tanto tempo Che io non festeggiavo Un compleanno Da ragazza Mai Non l'avevo mai festeggiato Perché poi Da piccola Mia madre Nel primo Secondo Terzo anno Me li festeggiava Però Essendo piccola Non capivo niente Non volevo festeggiare Infatti In 18 anni Neanche le volevo festeggiare Infatti Poi ve lo dico Comunque Dopo Tre mesi Che ho avuto L'incidente Mi è esplosta Dentro di me L'eritema polimorfo Con l'eritema La pelle Che poi Mi sembra che Vi ha parlato In un video vlog Però non ricordo Aspettate Non ricordo Quale 12 Da piccola Mangiavo Poca e niente Infatti Ero spesso Ricoverata In ospedale Con i lavaggi Appesi Perché Non mangiavo Non mangiavo Né carne Né pesce La pasta Mangiavo Le cretinate Tipo patatine E queste cose così Infatti Mia madre Per mettermi Qualche vitamina Qualche proteina Dentro Mi Mi dava Le gozze Lo sciroppo Di betola Mi sembra Quelle vitamine 13 All'età di 4 anni Ero in fissa Con il pongo Infatti Mia madre Si doveva riposare Siccome aveva paura Di questo pongo Se me lo ingoiavo Mia madre Me l'aveva Conservato Secondo lei Che io Non ci potevo arrivare Nello scaffale In alto Io mi sono Arrampicata Ero con le calze Sono scivolata Mi sono Tiene di tendini E sono andata In ospedale Mi sono Operata I tendini Non so se vedete Adesso La differenza Si vede molto Comunque 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 Questo è più grosso Comunque Quindi Mi piaceva con il pongo Perché Mi piace Non lasciare le manate Spaccavo di pongo Lasciamo le manate O a terra Comunque Ero arrivata Quattordici Ho smesso di mangiare le unghie Ma mi mangio le pellicine E' una fissa ragazzi Ero come Come io ero fissata con le unghie Che mi dovevo mangiare le unghie Me le mangiavo tipo A farmi uscire pure il sangue Adesso ho smesso Infatti Come vedete Sono lunghi Anzi Lo accorciate io Perché Non potevo fare niente Di come dovevo fare le pulizie Volevo essere Più libera E le ho tagliate Poi mi sembra Che questi due Siano rotti Tu vabbè Li tagli tutti Corti corti Così nel frattempo Crescono tutti i nuovi insieme Perché più Si accorciano con la lima Vi raccomando Niente forbici Si Si fanno con la lima Più si rinforzano Comunque vi stavo dicendo Ah la pellicina Se vi mando adesso La pellicina Ma Io mica la voglio Mangiare È una Fissazione Perché io Infatti Quando sono con la lima E ora questa mano Che non mi devo mangiare Infatti Io ho detto A mio ragazzo Quando mi metto le mani in bocca Tu Fammi levare Perché In quel momento Io non ci penso E mi metto le mani in bocca Invece no 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 15 Amo i capelli Lui Infatti Come li toccavo Ok Amo i capelli lunghi Sì Io li amo Li stramo Anzi Mi dispiace Vi devo tagliare un po' Perché vedete C'è la coda Un pochettino Troppo a coda Perché Io praticamente Quando mi sono tagliate I capelli Li ho fatti Così Tipo Con la coda Quindi Devo andare Un pochettino A spuntare Ci devo andare Quando vedo A fare le mesh Infatti Come vedete C'è una bella Rigrescita Ma Per dirvi la verità Mi secco In questi giorni Voglio farvi dire Il Cioè Il Fred Cioè Fred Perché sono Maniche lunghe Però Mi secco Cioè mi secco Stare quattro ore Con le cose in testa Perché per Capito Voglio chiare Comunque 16 Soffro D'ansia Riprendendo Il discorso Di compleanno Io Per 18 anni Non volevo festeggiarmi Il compleanno Ma mia madre Dice No Sono 18 anni Una volta Li fai Festeggio E di qua di là Quindi Io Mi sono organizzata Con questo compleanno Solo Di una settimana Prima Avevo l'ansia Anzio litica Praticamente Come mi andava Con il compleanno Se mi riusciva bene Se Se poteva piacere Eh Ho l'ansia Infatti Sono svenuta Come ogni volta Soffrendo d'ansia Io svengo Non so come La prendono Gli altri Fatemi sapere Se c'è qualcuno Che soffre d'ansia Come la prende Perché io Non lo so Io mi sento Esagerata Perché Quando ho un'ansia E mi fisso su una cosa Mi sento scollassare Però io Io mi spavento Quando ho un'ansia Infatti mi spavento Io cerco di rimanere a casa E tipo Non lo so Comunque 17 La mia stanza È come una casa Cioè Come Io sto a casa Mia Ma dentro la mia stanza C'è di tutto C'è cibo Cosmetici Corsi di farmacia Pedicura Manicura Poiché ci sono botti L'acqua Perché quelle non possono mancare Poi C'è Un po' di tutto Da Dobbiamoci così A prescindere il corredo Con le pentole Tutte queste cose E piatti Ok 18 Sono lunatica Cambio umore Facilmente Eh già Io Mi posso A prescindere che Quando mi sveglio io Non mi dovete fare domande Perché io Quando mi sveglio Sono in un mondo Tutto mio Se una mi inizia Viene E inizia a farmi domande Io Maria La prendo a parole Mi ci scaglio Di davanti Perché veramente Non mi dovete fare domande Perché io odio le persone Che mi fanno domande Appena sveglia Tipo mia madre Sto scendendo Fai quello Fai quello Fai quello Io mi alzo E non ricordo Cosa mi ha detto mia madre Perché io in quel momento Sono in un altro mondo Sono ancora Sto dormendo Avete capito Comunque Io cambio Umore facilmente È vero Perché tipo Mi arrivo Tipo sono triste Mi arriva una chiamata E mi può Uscire il sorriso O sono sorridente Tipo tutte cose Li vedo belle Ma arriva una chiamata E mi cade il mondo a terra E io cambio così Cambio umore facilmente Tipo solo me la posso prendere Con il mio ragazzo Senza motivo Capita Molto In questo periodo poi 19 Ho dormito Fino a 10 anni Con i miei genitori E già Ho dormito Con i miei genitori Fino a 10 anni Perché non avevo la compagnia Poi mi hanno fatto la compagnia Ho dormito Per 4 anni No Che dico Fino a 18 anni Ho dormito Fino a Più di 8 anni E più di 7 Sì Più di 7 anni Ho dormito Con il mio fratello Perché poi infatti La lettera che mia madre Mi ha scritto Perché hai abbandonato A mio fratello A tuo fratello Maria Mi stai facendo tutte cose Mi ha fatto una lettera A mia madre Veramente Mi sono messa a piangere 20 Sono Manica Di make up E smalti E adesso mi dai Cazzarmi Perché Gli smalti Lavo pure là Ma di make up Quando vedo make up Mi ci metto così Niente Io quando vedo make up Ho smalti Ma di Scioccante Scioccante Per adesso Sono così Voglio sempre Comprare E comprare E comprare Ma io mi sto a casa Perché devo Cercare di Non comprare niente 21 Vedo grande fratello E uomine donne Infatti è finito adesso Eh già Sono le 4 e mezza E è finita adesso Uomine donne Mi sono messo Uomine donne Però mi piace Il classico I vecchietti C'è quando lo vedo C'è quando lo attraverso Se ho sol Me mi addormento Se non ho niente da fare Lo guardo C'è un amici Quando c'è Grande fratello In quel periodo Me lo guardo 22 Nei miei primi anni di vita Ero riccia scura E con gli occhi azzurri blu Allora Sono cambiata dalla z Io non sono nera Ma questo è un castano scuro Non so se è un biondo scuro Ma castano scuro sicuro Biondo Cioè sicuro O castano O castano scuro O castano chiaro Devo vedere ancora Però mi sembra più un castano scuro Comunque Degli occhi Cioè Adesso non vedete Ma io è tipo Un color nocciola Non sono proprio marron Cioè Sono marroni Ah ma si vedono scuri Vabbè Comunque Nocciola Poi 23 Da che stiamo finendo Sono ordinata Sono ordinata Nel mio disordine Cioè Diversamente ordinata Io voglio essere ordinata Cioè Mentalmente Sì Voglio essere ordinata Però non ci riesco Perché Troppo ordinata Non mi piace Un esempio Ehm Nella mia stanza Può essere tutto ordinato Per una maglietta Fuoriposto Cioè Tipo fuoriposto Nella draio O nella sedia Ci deve essere Perché Per me è troppo Perfettina Non mi piace Tipo Tipo Questo così Poi a me non piace Che deve essere Tipo perfettino Ci deve essere sempre qualcosa Fuoriposto E così O tipo Non lo so Tipo mi faccio Un'accocciatura Non deve essere Troppo Troppo messa Ordinata Un po' scombigliata Sì Ok 24 Quando mi viene la febbre Mi butto sempre a letto E dormo tutto il giorno È capitato Una volta che ho avuto la febbre Di sabato e domenico Una cosa del genere Un mio ragazzo Per cercare di farmi mangiare Per cercare di farmi stare sveglia È stato Sia sabato che domenico A casa mia Mi ha portato Cornetti Caramelle gommose Queste cose che mi piacciono Per farmi mangiare Perché io non ti mangio niente Mi porti un pacco di patatine Cioè Ho un pacco di patatine a casa Non me li vado a mangiare Perché In quel momento Voglio dormire Voglio stare sola Cioè Mi viene Il vomito Se no 25 E chiudiamo Quando ero piccola Mi chiamavano Maruzze L'ho sempre Gliato questa parola Perché Cioè Che senso ha chiamarmi Maruzze Allora Il mio nome È Mediagrazia Questo Maruzze È uscito Da un ragazzo Cioè Quando ero piccola Io Praticamente io Andavo sempre dietro Un ragazzo Non faccio nomi Voglio evitare Che io ero Molto 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 Legata Questo Io tipo Avevo Che vi posso dire Nove anni E lui Aveva vent'anni Cioè dieci anni in più No forse Diciannove Comunque Era molto Molto più grande Niente Praticamente per me Ero innamorata Di questo ragazzo E infatti Quando tipo Era qua In questa zona Dalla parte mia Lo volevo sempre Tipo che mangiava A casa mia Tipo Come fidanzati No vieni dai Ero piccola Comunque Sì ok Sto andando a fare una cosa Antica Comunque Maruzze Cioè Lui me l'ha uscito Maruzze Maruzze Moni dai Capito Comunque Anche mio padre Mia madre e mio padre Non mi ricordo Chi mi chiamava Maruzze Comunque adesso Non mi chiamano più Meglio Perché è veramente Odiosa Questa parola Questa Questo nome Non mi piaceva completamente Comunque ragazze Basta Non parlo più Perché sono 24 minuti Che parlo Niente ragazze Vi saluto Vi mando un grossissimo Un bacio Perché sto tremando Ciao ragazze Ciao